7.57, quasi 58, 29 ottobre 2016, quasi pronti per andare a Mirabiradio, perché festeggiamo Aulingri. Aulingri. Siamo a Mira, Mirabilandia, nel giorno di Auling, no, fra un po' è Auling, come diceva mia donna, fra un po' è Auling, siamo venuti a fare Auling a Mirabilandia. Aulingri. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ho burlato tutto il tempo e mi ha fatto paura questo, quindi non ho so pensare tutto il resto. Ale vuoi dire, vuoi disfigliare qualcosa? Mi sto cagando d'oltre 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 E' freddo E' freddo E' freddo E' freddo E' freddo E' freddo E' freddo